Le segreterie della CISL Taranto Brindisi e della Federazione Territoriale Pensionati CISL ritengono che l'iniziativa sindacale unitaria di recente sviluppatasi verso l'ambito territoriale e sociale di Taranto abbia valorato la visione CISL di un welfare locale da concepire nel segno dell'appropriatezza. Era stata messa in discussione, nel caso specifico, la sostenibilità economica e sociale dei servizi di assistenza domiciliare ADI e SAD a favore di persona del comune capoluogo con disabilità gravi. Due in particolare gli elementi critici. La prima costituita dalle cartelle di pagamento pervenute lo scorso gennaio dopo un anno e i cittadini beneficiati dai servizi ma mai avvertiti della vigenza dello stesso regolamento che prevedeva l'esborso di somme particolarmente onerose. Il sindacato ne ha chiesto ed ottenuto l'annullamento. La seconda riguardava la soglia di reddito ISEE da prendere a riferimento per l'esenzione dei costi di fruizione del medesimo servizio, inizialmente fissato ad appena 2.000 euro. Il sindacato ha chiesto ed ottenuto che tale soglia fosse elevata a 15.000 euro. La CISL e la Federazione Territoriale Pensionati CISL segnalano che analoghe condizioni di disagio permangono negli altri ATS del territorio della provincia di Taranto, dove a seguito i degli abbassamenti dei redditi ISEE per la compartecipazione e costi del servizio, moltissime famiglie sono esposte a rischio.